a Caterina e ad Alessandra riguardo il progetto che state seguendo e quindi in particolare per quanto riguarda la giurace e la presenza dell'architetto Scaramazzino che sicuramente vi ha parlato di come da non molto tempo però ormai sono passato di tempo anche a Gerace si è iniziata a parlare di restauro e di uso dei materiali bibici locali come i nostri parti avevano insegnato ai propri figli perché ora sappiamo che in 20 anni in Gerace si è iniziata a disposizione di materiali circolari per la ristorazione del nostro territorio Grazie 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 Grazie